Si aspetta la sicurezza al 100% che si era aperto il servizio prenotazione dei biglietti della perdonanza per rilasciare dichiarazioni ed evitare di ricadere nel fiume di critiche che sono piovute quando all'apertura del termine di acquisto dei ticket per gli eventi il sistema è andato in tilt e si è bloccato tutto. La premura del comitato perdonanza di aprire la vendita dei biglietti in così largo anticipo rispetto agli altri anni, prima ancora della partenza della fiaccola del perdono, non è stata ripagata dalla tecnologia che, per cause ancora in corso di verifica, con il massiccio accesso di utenti a caccia dei biglietti dei big che saliranno sul palco del teatro del perdono, ha collassato prima ancora dell'apertura segnalando il sold out per tutti gli eventi. Il comitato sotto Ferragosto è stato così costretto a stilare una nota di scuse per tutta l'utenza, diffusa anche sui social della perdonanza, che aveva puntato moltissimo alla divulgazione dell'apertura della biglietteria. Il 90% dei biglietti, precisa il comitato, sono ancora disponibili per tutti gli spettacoli. Coloro che sono riusciti ad acquistare saranno contattati e non perderanno la loro prenotazione nei costi sostenuti. Stiamo lavorando quotidianamente, si legge in una nota e senza sosta, per assicurare a tutti la fruibilità degli spettacoli in sicurezza. Ricordiamo che quest'anno il cartellone 20 prevede due momenti distinti, aspettando la perdonanza, eventi che andranno avanti fino al 22 agosto, quando sulla scalinata di San Bernardino Vittorio Sgarbi parlerà di Dante e presenterà l'artista aquilano Giancarlo Ciccozzi. Il secondo momento di spettacoli, con i grandi big della musica italiana sul palco, da Renato Zero a Max Pezzali e poi ancora Risa, Ermal Meta, Gigi D'Alessio e tanti altri, costituirà lo spettacolo vero e proprio legato agli eventi della perdonanza, che partiranno dal 23 agosto fino al 30.